Buongiorno a tutti, avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che mediante resoconto stenografico anche attraverso la trasmissione diretta su web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione, sensi articolo 5,5 del regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, dalla professoressa Anna Maria Poggi, componente della Commissione con compiti di studio e supporto a consulenza in materia di autonomia differenziata insediata presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e l'Autonomia della Presidenza e il Consiglio dei Ministri sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. Dopo aver audito la settimana scorsa il coordinatore delle Commissioni con compiti di studio e supporto a consulenza in materia rispettivamente di federalismo fiscale e di ordinamento di Roma capitale insediate presso il menzionato Dipartimento per gli Affari Regionali e l'Autonomia, questa mattina avremo la possibilità di focalizzare l'attenzione sull'attività di un'altra Commissione istituita dal Ministro Maria Stella Gelmini. La professoressa Poggi illustrerà infatti il lavoro di ricognizione e di analisi che la Commissione di cui è componente ha svolto in merito ai tanti e delicati aspetti giuridici ed economici del processo di attuazione dell'articolo 116 terza comma della Costituzione. L'audizione costituisce quindi l'occasione per esaminare un ampio ventaglio di questioni inerenti all'articolazione delle relazioni finanziarie finanziarie tra livelli di governo nel quadro dell'attivazione del regionalismo differenziato a partire dalle prospettive che attengono al finanziamento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Ricordo che i componenti della Commissione, in virtù di quanto stabilito dall'aggiunta del regolamento della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, possono partecipare alla seduta anche da remoto. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori faccio presente che in conformità a quanto convenuto un sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. È alla prassi già seguita in occasione delle precedenti sedute e audizioni dopo la relazione introduttiva da parte della professoressa Poggi. Darò la parola a un oratore per gruppo concluso questa fase della discussione. Si potrà valutare in considerazione del tempo disponibile se procederà un'eventuale ulteriore serie di interventi lasciando comunque lo spazio necessario per la replica. Nei raccomandare ai colleghi di contenere la durata degli interventi. Invito a far pervenire alla Presidenza le richieste di iscrizione a parlare. A questo punto rinnovo il benvenuto alla professoressa Poggi che ringrazio a nome di tutta la Commissione per aver accettato l'invito e le cedo la parola. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come sapete uno dei temi fondamentali che pone il 116 riguarda le modalità di attuazione dello stesso 116 perché è una normativa scarna che lascia quindi molto spazio alla interpretazione soprattutto su due punti su cui si è concentrata la Commissione di cui ho fatto parte che ha consegnato la relazione nelle mani della Ministra Gelmini. Perché c'era poi anche l'altra Commissione quella preseduta dalla professoressa Salvini e quella di Roma Capitale per cui noi ci siamo tra virgolette abbiamo delineato il nostro perimetro a quelli che sono i due aspetti che non riguardano il 119 ma che riguardano direttamente il 116 e cioè il tema di come attivare le relazioni Stato-Regioni per dare vita al 116 terzo comma e il tema delle materie perché anche questo come sapete è tutto frutto di interpretazione. Il 116 non dice minimamente non fa nessun elenco rispetto alle materie che possono essere trasferite e nemmeno pone vincoli particolari quindi è tutto davvero frutto di interpretazione. Quindi la nostra Commissione si è concentrata su questi due nodi. Il primo nodo lo potrei diciamo così chiarire in questi termini esistono due linee di almeno due linee di pensiero su come far partire no cioè come 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 avviare il percorso. Secondo la prima linea di pensiero il percorso potrebbe essere avviato attraverso una legge quadro o comunque un preventivo strumento statale di indirizzo e di diciamo così fissazione di elementi procedurali e contenutistici comuni a tutte le regioni che intendano avviare il percorso del regionalismo differenziato e questa diciamo è la prima linea di pensiero che ha avuto una un inizio potremmo dire di attuazione all'incirca nel 2006 quando fu elaborato un ddl di iniziativa dell'allora ministro degli affari regionali l'anzillotta che poi però non fu discusso in Parlamento. L'altra linea di pensiero è quella secondo la quale non c'è bisogno di un atto diciamo così iniziale statale che fissi procedure che fissi contenuti che fissi in qualche misura paletti alle trattative delle regioni ma diciamo così l'inizio è contrattuale solo contrattuale tra la regione interessata ad attuare il federalismo il regionalismo differenziato che ovviamente deve anche qui passare attraverso quel minimo di procedura previsto dal 116 e cioè l'atto che è di giunta e consigliare sentito il parere degli enti locali e poi tutto si sviluppa attraverso una trattativa tra il governo la regione che ha attivato la procedura sino alla conclusione in Parlamento. Anche rispetto a questo modo di procedere abbiamo avuto dal 2001 ad oggi alcuni tentativi che tuttavia non hanno mai per motivi diversi prodotto un esito nel senso che prima nel 2006 poi nel 2008-2009 poi ancora nel 2018 abbiamo avuto alcuni tentativi soprattutto quello del 2018 che portò come ricorderete alla stipula delle famose preintese o preaccordi come come li vogliamo eh denominare è particolarmente interessante perché in quel caso è vero che eh si stipularono e si firmarono a febbraio del 2018 tre eh preintese eh o bozze di accordo come poi vennero anche chiamate ma queste bozze di accordo e questo è l'elemento interessante avevano una parte comune perché la prima parte di tutte e tre fissava sostanzialmente appunto una serie di elementi procedurali comuni e una serie di eh diciamo così paletti comuni a tutte e tre le regioni quindi eh fu un tentativo abbastanza eh interessante anche dal punto di vista eh della dell'analisi perché metteva insieme le due linee di pensiero quindi lasciava alla regione la lasciò alle regioni l'iniziativa eh di eh iniziare il percorso ma nello stesso tempo eh fissando in tutte e tre eh gli accordi degli elementi comuni in qualche misura non so faccio un esempio nelle in quelle bozze di accordo veniva anche stabilita la durata no? Quindi insomma eh che era uguale eh quindi in quelle bozze di accordo si mettevano insieme praticamente questi due questi due filoni eh di pensiero. Ora rispetto a questo tema specifico eh la Commissione eh ha optato per l'idea della legge quadro eh per la per l'idea della opportunità della legge quadro. È chiaro che questa è una scelta prettamente politica e quindi è una scelta che si sviluppa ovviamente come come elemento di indirizzo politico sia da parte del governo ma anche da parte eh delle delle forze politiche. Quindi la Commissione nel suggerire eh l'idea di una legge quadro eh ha cercato anche di darne delle motivazioni e le motivazioni che dal nostro punto di vista spingono in questo momento verso l'idea che sarebbe opportuno far precedere una legge quadro eh al percorso sono sostanzialmente di genere diverso. Io mi limito a segnalarvi quelle che ritengo le più importanti. Sicuramente oggi c'è la questione del PNRR. Questa questione è una questione che eh siccome ha un arco temporale eh sufficientemente lungo eh rispense nell'intesa ci fossero eh o nell'accordo si decidesse di trasferire materie rispetto al quali il PNRR pone dei vincoli rispetto al raggiungimento di obiettivi è evidente che nella legge quadro bisognerebbe in qualche misura già eh fissare per lo meno il vincolo rispetto alla regione al raggiungimento di quegli obiettivi e quindi evidentemente questo è un elemento il PNR è un elemento molto condizionante in questo momento rispetto a ma in realtà anche non ci fosse il PNRR sarebbe comunque utile almeno dal punto di vista procedurale cioè la procedura quindi come si dovrebbe sviluppare la procedura e contenutistico avere qualche elemento di quadro. Quali sono questi elementi di quadro che dal nostro punto di vista sarebbe ehm opportuno eh che ci che 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 venissero fissati preventivamente. Beh il primo diciamo il primo elemento eh di quadro sistemico è la necessità di un coinvolgimento parlamentare. Coinvolgimento parlamentare che deve poi strutturarsi perché la necessità del coinvolgimento parlamentare dal punto di vista sistemico perché noi sappiamo perfettamente che questo tipo di procedura non non ha per centosedici nessun passaggio all'interno delle conferenze e già questo però è un elemento eh rilevante perché significa che eh non c'è una discussione e non c'è neanche una di diciamo così eh la possibilità di una dialettica tra le varie regioni eh all'interno di nessuna delle conferenze che noi conosciamo e questo è un primo elemento. Il secondo elemento è dovuto al fatto che non avendo una camera delle regioni no cosa che eh tanti di noi hanno scritto è uno è uno è uno dei tanti vulnus del titolo quinto evidentemente una una discussione in sede parlamentare rispetto all'intesa eh è un elemento diciamo non solo di dialettica democratica ma è proprio un elemento rilevante per la stessa intesa e quindi c'è questo eh problema di una eh di una di un coinvolgimento in Parlamento ma come questo è il punto come allora l'idea che eh la Commissione ha eh ha posto sulla nella relazione come ipotesi di discussione eh per le forze politiche è la seguente prima eh in in all'inizio c'è l'accordo tra la regione interessata e il governo perché non potrebbe essere eh diversamente successivamente queste bozze di accordo quindi diciamo così iniziali bozze di accordo dovrebbero venire sottoposte alle commissioni parlamentari competenti mediante una procedura eventualmente rafforzata per il recepimento dei pareri e successivamente a un ulteriore confronto con la regione interessata al fine della predisposizione dell'intesa definitiva. L'intesa finale si configurerebbe dunque come il frutto del preaccordo iniziale fra Stato e regione interessata. Delle modifiche proposte dalla Commissione eh dalle commissioni parlamentari competenti su questa sotto forma di intervento sulla sullo schema di intesa e eh al compimento di questo percorso che sarebbe un percorso a questo punto di condivisione ampio l'intesa sarebbe pronta per essere presentata al Parlamento sotto forma di legge da ratificare come sapete con una maggioranza che è una maggioranza rafforzata perché è la maggioranza assoluta. Quindi da questo dal nostro punto di vista questo eh questo che non è scritto nel centosedici è è un'ipotesi che la Commissione ha messo in campo cioè il passaggio precedente alla eh alle alle commissioni parlamentari competenti che quindi sarebbero ovviamente sempre per la parte finanziaria occorrerebbe la Commissione bilancio e poi competenti per le materie eh garantirebbe in qualche misura una condivisione precedente che non eh fa correre il rischio alla successiva votazione parlamentare di andare al buio sostanzialmente quindi nelle commissioni si dovrebbe già raggiungere un accordo che consentirebbe poi alla legge di essere approvata perché la maggioranza comunque è una maggioranza importante quella che viene richiesta. Ecco l'altro aspetto che noi abbiamo eh suggerito è questo che si potrebbe prevedere una clausola di salvaguardia per le regioni che abbiano già raggiunto le preintese con il governo nel duemiladiciotto e quindi queste regioni sempre che rimangano di quelle idee e quindi rimangano dell'idea anche della richiede delle richieste fatte già nel duemiladiciotto sapete che le regioni erano tre avevano fatto delle richieste più o meno simili ma eh che si discostavano su alcuni aspetti se quelle tre regioni volessero mantenere quel tipo di richiesta si potrebbe prevedere nella legge quadro una clausola di salvaguardia tra l'altro consentita dall'articolo 1,571 della legge 147 del 2013 che eh testualmente eh dice appunto che nelle legislature successive si possono riprendere e far salvi gli effetti delle eh dei delle preintese già eh stipulate. Oh e questo per quello che riguarda la procedura dal punto di vista del contenuto eh il tema è eh quante materie si possono chiedere cioè il tema è un po' questo perché eh dal punto di vista formale non contenendo il 116 nessun tipo di limite e quindi ehm non facendo elencazioni e nulla eh si potrebbe dal punto di vista formale e letterale ritenere che le regioni possono chiedere tutto cioè possono chiedere tanto per essere espliciti che tutte le concorrenti diventino esclusive questo è il punto salvo poi che si pone un problema di sistema il problema di sistema che si pone è che noi sappiamo che questo è il eh è il principio che regge le regioni speciali in cui il l'elencazione del cento per cui l'elencazione del cento diciassette non non vale perché vale quella contenuta nei rispettivi statuti allora dal punto di vista formale è possibile a una regione letterale è possibile per una regione ordinaria chiedere che tutte le materie attualmente concorrenti diventino esclusive però poi si pone un problema e il problema di sistema che si pone è che è difficile ritenere che quella è un regionalismo differenziato perché praticamente diventa un regionalismo speciale a tutti gli effetti e la legge approvata maggioranza assoluta che contiene quell'elenco di materie è praticamente un altro statuto speciale però non approvato secondo le procedure previste dal 116 per gli istituti speciali cioè con la legge costituzionale ma con una legge a maggioranza assoluta quindi si pone questo problema sistemico e questo è un problema di interpretazione però a tutti gli effetti se una regione volesse chiedere tutte che tutte le materie del cento diciassette terzo comma diventino esclusive può farlo perché non c'è nessun limite da questo punto di vista poi ci sono ovviamente delle ragioni di opportunità no non solo di opportunità ma delle regioni ma delle ragioni che riguardano anche la sostenibilità da parte delle regioni che lo richiedono di tutte le materie allora qui noi abbiamo cominciato come commissione a fare qualche ragionamento ora tolta la sanità che è già tutta regionale e rispetto alla quale francamente non si pone granché anche se qualcosa c'è perché per esempio nelle preintese del 2018 se ricordate anche sul fronte tra virgolette sanitario veniva per esempio più che sanitario universitario che interessa anche il versante sanitario veniva richiesta per esempio la devoluzione delle borse di specialità medica per essere più adeguatamente poi distribuita in sede regionale sapete che questo alloggio è un grosso problema quello della distribuzione delle borse di specialità medica comunque a parte la sanità che è già quasi tutta devoluta alle regioni la materia oggettivamente più complicata è l'istruzione perché l'istruzione significa in sostanza il passaggio del personale questo è il vero tema che è un problema anzitutto di di cambio di contratto perché attualmente il personale dell'istruzione non è sta sotto la contrattazione collettiva nazionale quindi venisse trasferito alle regioni ci sarebbe il tema della contrattazione perché questo comunque è un comparto che è soggetto a contrattazione quindi non potrebbe più esserci non potrebbe più valere il contratto collettivo nazionale perché se passi alle dipendenze delle regioni che ovviamente non non può più valere e quindi bisognerebbe far partire tutta quella partita della contrattazione poi ci sarebbe un'ulteriore questione quale personale personale docente sul personale docente si può sul personale amministrativo si pongono meno problemi sul personale docente si potrebbe porre qualche problema il problema è relativo al fatto che come sapete ci sono dei anche dei principi costituzionali tipo la libera circolazione su tutto il territorio nazionale eccetera per cui se un docente è troppo vincolato dal contratto regionale si potrebbe poi porre quel tema sono tutti i problemi che si potrebbero soprattutto e questo è emerso in maniera molto chiara dalle audizioni che la nostra commissione ha fatto per cui ci fidiamo ovviamente degli esperti qui mi riferisco alle audizioni che abbiamo fatto con la corte dei conti con la ragioneria generale dello stato e con cottarelli quello che tutti e tre comunque sul tema sono intervenuti sostenendo da studi pregressi che questo trasferimento potrebbe comportare un aumento del costo complessivo dell'operazione cioè la diciamo così la competenza statale dal loro punto di vista comporterebbe meno costi rispetto al trasferimento alle regioni della costo complessivo è per intenderci della materia dell'istruzione allora se se noi teniamo fuori l'istruzione le cose si semplificano molto è chiaro che se invece vogliamo tenere dentro l'istruzione il tema più complicato da affrontare perché ha tutta una serie di risvolti che sono risvolti appunto non solo di indirizzo politico ma anche di sostenibilità finanziaria tenete poi conto che sull'istruzione c'è anche un tema grosso che è vero che faccio l'esempio del trentino il trentino ha la competenza esclusiva sull'istruzione su tutta l'istruzione però il trentino è una regione speciale e quindi su questo c'è anche delle possibilità di legislazione diversa dalle altre regioni quindi un trasferimento dell'istruzione fatto solo ad alcune regioni è complicato e oggi si può fare perché tutto poi si può fare però è complicato richiederebbe probabilmente molti atti di molti atti statali di coordinamento e quindi e anche c'è il tema proprio della sostenibilità finanziaria ora superato lo scoglio dell'istruzione ripeto già questa è una scelta molto rilevante è quella di tenere dentro l'istruzione o meno una scelta che probabilmente nella legge quadro si potrebbe già inserire nel senso che se si tiene dentro l'istruzione bisogna probabilmente inserire taluni vincoli se non si tiene dentro l'istruzione quindi si fa diciamo così ci si accorda sul fatto che quella è una materia che richiede una unitarietà no di indirizzo particolare si va in due direzioni diverse tolta l'istruzione che insieme alla sanità ripeto costituiscono poi il grosso la attuazione del 116 terzo comma appare di più facile soluzione occorrerebbe però che nella legge quadro fosse inserito un principio generale per cui la regione richiedente dovrebbe farsi carico della dimostrazione della convenienza del trasferimento di funzioni e di risorse questo è abbastanza rilevante nel senso che la richiesta per evitare perché anche qui mi riferisco al pregresso così almeno ci intendiamo noi sappiamo perfettamente che ci sono delle regioni che storicamente chiedono da tempo un regionalismo differenziato e come sapete queste regioni sono sempre le tre quattro tre barra quattro perché veneto lombardia emilia e piemonte ora noi sappiamo anche che nel 2018 quando fu stipulato il famoso con il primo contratto di governo nel primo governo conte sapete che c'era una formula in quel contratto di governo che incentivava il regionalismo differenziato e a quell'epoca però noi abbiamo avuto una richiesta di attivazione di procedure di moltissime regioni italiane e guardandole queste regioni quelli di noi un pochettino più esperti della materia erano abbastanza certi che non tutte quelle regioni potevano garantire la sostenibilità finanziaria del trasferimento quindi questa accortezza sarebbe necessaria perché se il regionalismo differenziato deve diventare la corsa per ottenere più risorse non è proprio opportuno perché il regionalismo differenziato nasce con una idea e una filosofia completamente diversa e cioè che le regioni che sono convinte perché lo possono in qualche misura anche dimostrare che sono in grado di gestire meglio talune funzioni rispetto allo stato la costituzione consente loro di chiedere quel trasferimento ma il regionalismo differenziato non può diventare la corsa che le regioni fanno per cercare di ottenere qualche risorsa in più rispetto al percorso quindi questa clausola sarebbe necessaria mentre per esempio la nostra commissione ritiene ha ritenuto che la legge quadro non dovrebbe contenere la fissazione dei LEP perché non perché tolta se tolta la sanità tolta l'istruzione quindi l'ipotesi in cui si tolgano sanità e distruzione francamente la questione dei LEP non è una questione così rilevante tenete conto che peraltro nella legge sul federalismo fiscale del 2009 la fissazione dei LEP appunto era relativa e veniva fissata con riguardo alla sanità all'istruzione al trasporto pubblico locale ai servizi sociali quindi in sostanza si svuota un po' anche perché se poniamo quest'ulteriore paletto alla realizzazione del regionalismo differenziato diventa molto complicato poi effettivamente realizzarlo. A questo punto ci sono parecchie materie che potrebbero essere date in differenziazione dagli incentivi alle attività produttive ai musei beni culturali alla ricerca scientifica e tecnologica all'ordinamento sportivo all'edilizia scolastica agli asili nido all'istruzione e formazione professionale alcune aree della disciplina del lavoro le politiche attive del lavoro eccetera. E quindi chiudendo per chiudere la nostra commissione ha ritenuto che una legge quadro sarebbe opportuna se non altro per fissare questi elementi di procedura e di contenuto ma non nell'ottica di rendere più difficoltoso il percorso al contrario nell'ottica di favorire il percorso stesso perché comunque chi studia questi insomma chi ha osservato ha studiato questi fenomeni in questi anni si rende conto che la mancanza che c'è stata di come dire di un di un quadro ecco di un quadro iniziale indubbiamente ha reso più difficile il percorso di attuazione del regionalismo differenziato quindi l'ultima nota che vorrei fare che la nostra commissione è stata composta purtroppo il professor Caravitta è scomparso da qualche mese noi siamo tutti regionalisti ultra convinti l'idea della legge quadro non è stata pensata per frenare il percorso al contrario è stata da noi pensata ed elaborata per favorire il percorso e fare in maniera tale che finalmente si possa dare un'attuazione al 116 terzo coma grazie a lei professoressa prego senatore per osino grazie presidente grazie professoressa sì la l'idea della legge quadro di primo acchito sembrerebbe dire voler dire ma in realtà meniamo un po' il camper laia e poi non facciamo nulla di primo acchito però poi esaminando rispetto ad un accordo contrattuale che per forza di cose è fatto dallo stato centrale e le regioni singolarmente quindi è diverso e potrebbe essere impreciso troppo largo troppo stretto sotto a tutto questo discorso io penso che ci sia ma mi pare ho letto seguito un po negli anni il discorso della finanza derivata cioè è di finanza derivata e invece ci sono stati anni studi dibattiti e quant'altro da dove si voleva puntare a una finanza diretta in maniera che ci fosse la responsabilizzazione siccome la regione tolto quello che accennavamo ieri sul discorso con la dottoressa Rappecorella sull'Irap e alcuni altri aspetti della riforma fiscale in essere in corso aveva vive le regioni vivono di finanza derivata e questo dà tanti problemi perché non c'è la responsabilizzazione diretta ma ci sono ancora altri tributi che vanno alla regione come i bolli delle auto ogni tanto esce qualcuno che vuole abolirli ma dice però devi coprirli da qualche altra parte che sono più sparate politico giornalistiche che fondate perché alla fine sotto sotto alle scelte di governo c'è sempre la imposizione fiscale con la quale fronteggi e vai a perequare questa è la finalità quindi un discorso da sviluppare quello che quando si fanno gli accordi i preaccordi è quello di partire da diciamo anche lì da un costo storico ma prevedere anche che dopo dovrà cambiare perché per una serie di eventi perché le esigenze mutano perché c'è l'inflazione perché aumentano i contratti di lavoro qualcuno lo deve coprire quindi per non dare origine a del contenzioso delle difficoltà da regione a regione io vedo che visto che nella sanità nella questione covid proprio sotto questo aspetto avevo così parlando con dei responsabili di finanza ma secondo me con il covid andrete fuori di qualche miliardo rispetto ai 115 116 che sono della sanità la legge di bilancio per il 2022 ha stanziato 2 miliardi ma secondo me sono largamente insufficienti perché il covid è una vicenda a parte i distanziamenti diretti effettuati ma proprio la gestione della sanità ha dovuto girare a una velocità pazzesca sui costi generali stessi da due anni a questa parte quindi chissà che influenza avrà ma i 2 miliardi a naso non possono non bastano e poi lei ha toccato giustamente l'aspetto che aveva dato origine nel 2018 all'inizio di questa commissione della legislatura in cui si parlava questa commissione di questi dopo il referendum delle regioni e dopo i preaccordi si parlava del discorso istruzione allora arrivava un ministro che diceva si farà arrivava quello dopo della sanità non si può fare per una serie di motivi perché c'era la questione nord sud e c'era quel sistema di passaggio degli insegnanti sui graduatori e quant'altro tutte cose che poi nel covid si sono invertite perché ormai si assume chiunque basta che abbia anche se arriva l'ultimo anno di università perché mancano le figure c'è stato il numero chiuso a medicina ad esempio che è stato qualcosa che non ha funzionato diciamo che la materia dell'istruzione la vedo come quella più delicata e tendenzialmente sarei pur essendo un federalista forse è meglio che rimanga sotto lo stato centrale perché è difficile da gestire poi la regione chiudo le capacità della regione sta nello sviluppare e gestire tutte le altre materie che lei ha citato e che sono parte libere ma in parte perché non specificate nell'articolo 116 ma che sono già quelle gestite dalle regioni lì si può come dire dimostrare la differenza politica la citate tante c'è anche l'agricoltura che è un settore importantissimo ma ci sono quei settori che non sono meno importanti sono tutti importanti ma che apparirebbero minori ma che in realtà hanno dato spazio alle regioni di dimostrare di avere qualcosa di saper gestire in modo diverso da approfondire la questione dei lab di cui qui si è tanto parlato io non sono molto esperto ma credo sia anche difficile specificare per bene quali sono i lab e quantificarli credo che sia molto molto difficile adesso c'è tutto lo sviluppo sull'input europeo che è contenuto nel PNRR degli asili nido che sarà un altro di quei coefficienti cioè di quei obiettivi da raggiungere su quello concordiamo ma di quei coefficienti che richiederanno valutazioni di costo e richiederanno delle realizzazioni dove forse può essere una scuola per stabilire l'EP, dico così a sensazione. La motivazione da ultimo della legge quadro per me esiste a prescindere poi con il coinvolgimento parlamentare senz'altro le commissioni, il PNRR è una cosa che giorno per giorno io l'ho detto da qualche altra parte spero di sbagliarmi ma se guardassi il PNRR nel cannocchiale lo vedo sempre più sfocato perché è complicato e perché viviamo una stagione semplicemente pazzesca da tutti i punti di vista quindi e comunque attuarlo bisogna essere in gamba lì anche forse la politica dovrà dare dimostrazione di essere efficace tutti i famosi efficienti, efficaci ed economica le richieste della teoria politica per cui prendiamo atto di quello che lei ci ha detto, di quello che la commissione sta discutendo lunedì avrò l'opportunità di vedere in Piemonte il ministro Germini quindi glielo dirò e magari mi viene in mente qualcos'altro e do qualche suggerimento politico ma proprio così amichevole, grazie Grazie a lei senatore, prego onorevole Ruggero Grazie Presidente, volevo ringraziare la dottoressa per essere intervenuta in audizione e volevo fare delle domande semplicemente per quanto riguarda la sanità lei ha detto che effettivamente c'è già stata appunto la competenza esclusiva delle regioni già da anni però già la pandemia Covid ha dimostrato come la sanità in Italia vada a diverse velocità e abbia risposto in maniera differente quindi non dando gli stessi servizi e rispondendo agli stessi bisogni su tutto il territorio nazionale e quindi se voi come commissione avete anche un po' approfondito quali sono le criticità della sanità gestita a livello regionale dalle diverse regioni d'Italia considerando anche i piani di riantro e tutte le questioni che negli ultimi vent'anni sono succedute rimango un po' colpita dal fatto che nella legge quadro non dovrebbero essere inseriti le app e quindi sentire parlare ancora di regionalismo sulla base dei costi storici è alquanto assurdo visto che tra gli obiettivi che ci siamo posti di riforma per ottenere il piano nazionale di ripresa e resilienza cioè anche la determinazione del fabbisogno standard delle regioni e quindi se non sia il caso di prima riformare la nota metodologica di riparto delle regioni quindi non più legata al costo storico ma al fabbisogno standard e poi iniziare a pensare a quali competenze potrebbero essere in caso trasferite alle regioni e poi un ultimo sentivo parlare anche di istituto di ricerca da carattere scientifico e tecnologico proprio in questo momento è all'esame della commissione affari sociali la legge delega di riforma di questi istituti e quello che è a seguito di audizioni che abbiamo svolto quello che è emerso è che non solo non abbiamo una corretta distribuzione di questi istituti su tutto il territorio nazionale ma molto spesso questi istituti hanno dovuto colmare la carenza di risposta sanitaria da parte delle strutture sanitarie ordinarie e quindi come si è mancato il carattere poi di ricerca sanno il fatto che la legge ormai è vecchia e l'ultima che fu fatta fu fatta anche male per cui ha creato molto precariato e non è competitiva a livello sia italiano quindi tra le stesse regioni italiane perché abbiamo una presenza di fondi privati sia né tantomeno a livello europeo e assolutamente a livello internazionale quindi bisognerebbe prima appunto colmare diverse criticità e carenze che ci sono in tutti questi ambiti e competenze che voi avreste inserito nell'eventualità di trasferimento alle regioni quindi se non sia il caso di attendere il fabbisogno standard delle regioni slegandoci dai costi storici e un'ultima domanda in quale modo nel momento in cui ci fosse un giorno questo è quello che vuoi intendere Onorevole Ruggero non abbiamo problemi a sentirla non so se è ancora collegata un attimo ecco adesso la risentiamo sì eravamo all'ultima domanda ecco l'ultima domanda in quale modo l'ultima domanda in quale modo la legge quadro prevede poi l'applicazione dell'articolo 120 della Costituzione per garantire gli obiettivi da raggiungere e i servizi da offrire ai cittadini in maniera omogenea su tutto il territorio grazie grazie a lei prego senatrice Bono grazie innanzitutto grazie per la relazione io mi soffermo su un'affermazione da lei fatta su cui sono d'accordo cioè se il regionalismo differenziato deve diventare la corsa per ottenere più risorse non è questo il metodo però il regionalismo nasce sempre ha detto lei in quanto le regioni devono dimostrare di poter fare di più rispetto allo Stato e qui mi permetto di fare una riflessione perché se si parte da questo principio le regioni più povere e quelle del Sud praticamente non potrebbero mai accedere a questo percorso mentre il regionalismo differenziato dovrebbe servire come opportunità per queste regioni altrimenti avremo sempre il divario nord-sud della polemica sul regionalismo e sulla concretezza di questi provvedimenti per cui ritengo che bisogna anche nella legge quadro allargare il discorso e sono d'accordo con quanto diceva la collega prima cioè non partire più dal costo storico ma dai fabbisogni standard in modo che le regioni tutte le regioni possano capire quali materie scegliere non tutte le materie perché altrimenti come ha detto lei si va al punto delle regioni a statuto speciale quindi credo che debba esserci anche una responsabilizzazione delle regioni e quindi far cambiare questo principio perché se noi diciamo non si possono ottenere più risorse però nello stesso tempo dovete fare di più dello Stato in realtà anche le regioni più povere hanno delle materie dove possono fare di più dello Stato basta concedergli l'opportunità e soprattutto fargli comprendere le potenzialità delle effettività del regionalismo differenziato era solo una riflessione che volevo condividere con lei grazie non vi sono altri interventi quindi la parola alla professoressa Poggi per la replica prego grazie senatrice perché lei ha colto con le sue riflessioni uno degli elementi fondamentali di riflessione della nostra commissione cioè la legge quadro come momento anche di fissazione di elementi di responsabilizzazione per le regioni quindi fissando dei principi magari semplici no tipo dimmi perché vuoi quella materia dimmi perché la vuoi perché poi siccome le regioni italiane sono molto diverse e danno punti di forza molto diversi che una regione del sud chieda più competenze in materia per esempio di beni culturali o in materie che attengono al turismo o in materie che attengono ad elementi più di colleganza con la cittadinanza va benissimo importante però è attivare questo principio di responsabilizzazione che è un principio fondamentale per un sano sviluppo del regionalismo quindi in questo senso per noi la legge quadro aiuterebbe il regionalismo differenziato anziché frenarlo perché quello che noi abbiamo visto in questi anni è esattamente il contrario e quindi se invece c'è all'inizio si pongono dei principi che sono dei principi appunto di quadro e di responsabilizzazione probabilmente questo percorso ha più possibilità di essere realizzato non solo dalle regioni del nord ma anche da quelle del sud perché questo è un po' il punto e il fatto che ci sia una legge quadro dovrebbe essere anche come dire di aiuto alle regioni del sud più che di detrimento perché altrimenti se non c'è questo come non c'è per esempio un impegno dello Stato a trasferire risorse è evidente che il regionalismo differenziato viene chiesto solo dalle regioni più forti come è stato finora storicamente quindi la legge quadro noi l'abbiamo proprio intesa in questo senso come un momento di discussione in cui poi la relazione come sapete è stata depositata quindi ci sono molti elementi in più di quelli che io oggi ho potuto esporre abbiamo voluto proprio marcare questa idea di mettersi d'accordo su alcuni principi che possano poi aiutare il percorso stesso e ringrazio anche il senatore Perosino per le riflessioni che ha fatto perché sono delle sono delle riflessioni che abbiamo anche noi cioè che sono state anche molto oggetto di discussione da parte nostra soprattutto ripeto questa questa idea della legge quadro come elemento di freno cioè bisogna superare questo ostacolo cioè bisogna porsi in un atteggiamento diverso guardando quello che è successo prima perché fino adesso non siamo mai giunti a una conclusione dal nostro punto di vista non siamo mai giunti a una conclusione perché non c'è stato mai all'inizio un momento di condivisione vera e poi parliamoci chiari una volta che la legge quadro è fatta almeno c'è un binario invece se non c'è questo binario che cosa succede in sostanza che a ogni legislatura si ricomincia da capo ed è quello che è successo puntualmente dal diciamo dal 2006 in avanti a ogni legislatura allora la legge quadro potrebbe una volta approvata essere un binario finalmente c'è un binario in cui si si possono inserire questo tipo di richieste quindi il tema è un po' questo vengo poi alle domande dell'onorevole Ruggiero giustamente lei dice ma come ILEP lei ha ragione ma noi abbiamo ragionato in questo modo se dalla devoluzione possibile togliamo sanità e distruzione quindi togliamo questi 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 due bacini di materie la questione dei livelli essenziali delle prestazioni non si pone più come motivo di rimente perché in realtà di ILEP c'è bisogno nelle materie del sociale questo è il vero punto quindi in materia di istruzione in materia di sanità ora voi sapete che in materia di sanità ILEP ci sono perché sono dei DM che vengono approvati dalle varie conferenze quindi se noi togliamo dalla devoluzione sanità e distruzione il tema dei ILEP è un tema che sicuramente è molto meno come dire no rilevante perché altrimenti certo si potrebbe per esempio sui servizi sociali c'è la legge quadro sui servizi sociali che contiene già tutta una serie di ILEP quindi anche lì il problema si potrebbe porre forse sul trasporto pubblico locale se però il trasporto pubblico locale noi lo sappiamo perfettamente che è già anche lì tutto devoluto quindi in sostanza si potrebbe quindi non li abbiamo scritti perché nell'ipotesi in cui abbiamo pensato che l'istruzione non dovrebbe essere oggetto di devoluzione questo è il punto è evidente onorevole che se invece l'istruzione diventa oggetto di regionalismo differenziato è chiaro che ILEP vanno fissati non c'è il minimo dubbio e lì poi si apre ovviamente un problema enorme perché ILEP in istruzione quali sono i livelli essenziali delle prestazioni in istruzione sono tanti sono veramente tanti perché vi faccio un esempio vi faccio due esempi estremi tutte le prestazioni per la disabilità quelli sono tutti ILEP quelli dovrebbero essere tutti ILEP indipendentemente da regionalismo differenziato tra l'altro esempio estremo oggi la digitalizzazione cioè l'accesso alla rete ma non dovrebbe essere un ILEP anche quello quindi evidentemente lì si apre una elementi di discussione ulteriore quindi il motivo per cui non abbiamo cioè per cui abbiamo ritenuto nella relazione che nella legge quadro potrebbero non esservi ILEP è solo ed esclusivamente legato al fatto che si toglie l'istruzione dal terreno di devoluzione e la sanità comunque ILEP li ha già certo che abbiamo fatto delle riflessioni sulla sanità le abbiamo fatte soprattutto a valle del periodo pandemico e delle diverse rese regionali in periodo pandemico e ci siamo anche interrogati se e quanto questo sistema tenga ancora non era ovviamente oggetto della nostra relazione l'unica osservazione che trovate però nella relazione e che ci è arrivata dalle audizioni che abbiamo fatto è che oggi come oggi è complicatissimo riassorbire allo Stato le funzioni in materia sanitaria che sono state trasferite alle regioni perché c'è un tema strutturale di risorse di personale che diventa veramente complicatissimo all'oggi poi ormai questi trasferimenti sono partiti dal 77 quindi si è sedimentato anche un certo tipo di come dire di cultura nella cittadinanza di avere il servizio reso a certe condizioni il tema casomai da parte però questa è una responsabilità dello Stato da parte dello Stato è capire in quali territori c'è bisogno di ulteriore intervento e lì intervenire quindi questa riflessione è stata fatta lei ne troverà traccia sia nella relazione che nelle audizioni noi abbiamo fatto 19 audizioni quindi abbiamo cercato di sentire davvero molti molti pareri in questo in questo campo anche del 120 abbiamo parlato e anche qui trova traccia nella relazione perché ci siamo anche interrogati su quali altri strumenti bisognerebbe inserire in una legge quadro per garantire il monitoraggio dello Stato il controllo la eventuale riverifica come diceva lei senatore dopo un po' le cose cambiano per esempio se tu trasferisci la istruzione e poi i contratti cambiano e poi quando ci sono gli adeguamenti contrattuali è evidente che il costo aumenta quindi sono tutti elementi di cui abbiamo tenuto conto nella relazione io purtroppo avendo il tempo limitato ho cercato di dire quelle che dal mio punto di vista potevano essere le cose di vostro maggiore interesse su cui aveva lavorato la commissione per cui vi ringrazio molto insomma di queste ulteriori richieste di precisazione lo siamo noi che ringraziamo lei professoressa una richiesta a farla io approfitto un attimo visto che siamo ancora in tempo con gli orari parlamentari diciamo che innanzitutto grazie per la relazione e anche agli altri componenti del suo gruppo per il lavoro svolto che sarà sicuramente utile e prosegue anche dai nostri lavori io non riesco capire però il discorso dell'istruzione cioè dell'accantonamento chiamiamo così che sarebbe capisco che sarebbe renderebbe diciamo tutta la procedura molto più semplice il discorso è però come si può impedire diciamo così a una regione che lo vede scritto in costituzione comunque di chiedere quindi diciamo che so che politicamente non sta a lei dare risposte diciamo anche questo è assolutamente possibile abbiamo da tutte non i pericoli diciamo da tutte le difficoltà che bisognerebbe affrontare allora a questo proposito posso dirle perché è un'esperienza che ho fatto direttamente che nel 2007 fu insediata a livello governativo una commissione di cui ero il coordinatore nazionale che doveva ragionare su come attuare il trasferimento perché lei sa che oggi l'istruzione è una concorrente delle regioni che in realtà però nei fatti non è così allora quella commissione doveva studiare come attuare possibili trasferimenti dallo Stato alle regioni e ci siamo posti tutti i problemi ci siamo posti anche il problema del personale di quella commissione faceva parte un professore di Bari esperto di diritto del lavoro e avevamo anche studiato un meccanismo di duplice contrattazione nazionale integrativa regionale nell'ipotesi del trasferimento quindi non è che non si può fare si può fare il tema è che richiede una serie di passaggi che sono dei passaggi molto rilevanti quello indubbiamente più rilevante è quello contrattuale perché lì c'è un tema come configuri la dipendenza del personale perché questo è il tema vero noi per esempio avevamo studiato un sistema per cui la dipendenza organica rimaneva allo Stato mentre il datore cosa che si può fare mentre il datore di lavoro poteva diventare la regione e quindi in sostanza il personale poteva continuare ad essere retto dalla contrattazione collettiva nazionale in quando la dipendenza organica rimaneva comunque in capo allo Stato e le regioni diventando datori di lavoro potevano introdurre una contrattazione integrativa quindi non voglio dire che non si può fare però è chiaro che richiede una serie di studi preventivi e di passaggi preventivi che sono rilevanti quindi bisogna anche per esempio studiare il meccanismo per cui garantire la libera circolazione sul territorio nazionale se la regione ha fatto una programmazione e ritiene che nella sua programmazione ha bisogno di un tot di un tot di e un tot di se poi qualcuno chiede di trasferirsi e tu devi poterlo far trasferire devi capire come poterlo far trasferire quindi non impedire la sua libertà di circolazione ma come far salva anche la programmazione regionale che è stata fatta quindi in realtà ci sono una serie di problemi che sono da studiare prima per evitare che poi esplodano dopo ecco ho solo questo inteso dire quindi ho inteso dire presidente che togliendo l'istruzione è tutto più semplice se teniamo dentro l'istruzione è evidente che si può fare però questo richiede almeno una commissione di studio tra l'altro i lavori di quella commissione di cui ho fatto parte credo che siano ancora tutti agli atti richiede di studiare tutta una serie di elementi preventivi per fare in maniera tale che poi quando si arriva al trasferimento sia già tutto tenga conto che tra l'altro la Corte Costituzionale in una famosissima sentenza del 2003 disse che l'istruzione si poteva trasferire disse addirittura che dal suo punto di vista dovevano sparire le direzioni regionali che come sapete sono come le prefetture sono statali e gli assessorati regionali avrebbero dovuto assumere le competenze delle direzioni regionali quindi addirittura la Corte Costituzionale all'epoca disse che la materia no infatti quella commissione partì proprio dopo quella sentenza della Corte Costituzionale quindi si può fare è evidente però che è un tema che richiede una specificità di approccio e un tecnicismo molto alto più problematica insomma di tutta va bene grazie mille professoressa per la sua pazienza ringrazio lei e ovviamente anche gli altri componenti della commissione dichiaro conclusa l'audizione grazie grazie mille grazie mille Grazie a tutti.